Rimanendo sul tema delle funzioni espressioni, c'è un altro caso d'uso in cui si rivelano davvero utili. Partiamo da qui, dove immagino di programmare un gioco e di chiedere la creazione di un nemico. Questa è demandata la funzione scegli avversario. Per interagire con gli altri elementi del gioco, ho immaginato che ogni personaggio gestito dal computer abbia un suo comportamento. Qua l'ho semplificato con questa chiamata, primo nemico punto comportamento. Tralasciando la questione che primo nemico è effettivamente un oggetto, qualcosa che ancora non abbiamo affrontato a livello sintattico, concentriamoci sul fatto che questo comportamento non è fisso. Infatti se eseguo il codice, limitiamoci alla prima riga, bau bau, se aggiorno potrebbe capitare ancora bau bau perché poi la scelta è casuale, grower, beh, ma la funzione è sempre questa. O meglio, la property dell'oggetto è sempre comportamento, ma la sceglia avversario e le altre funzioni coinvolte agganciano a comportamento una funzione espressione che è estratta a sorte. Andiamo ritroso a vedere come funziona. Queste sono le tre funzioni espressione. Ciascuna definisce un comportamento. Il docile, il indeciso e l'aggressivo. La sceglia avversario, cosa fa? Estrae, utilizzando il math random, un numero casuale tra 0 e 1 escluso, quindi fino al massimo 0,9999, lo moltiplica per 3, e potremo arrivare quindi a 2,9999, gli aggiunge 1 e così arriveremo al massimo a 3,9999, toglie la parte decimale con floor, rimarrà quindi un numero tra 1 e 3. Se 1, allora restituisco. Ciò che restituirà la funzione crea nemico, passando come parametro una funzione. Ecco la novità. Le funzioni espressioni possono essere passate come parametri ad altre funzioni. Se è uscito 2, diamo come comportamento il parametro che corrisponde alla seconda funzione e la stessa cosa per la terza. E qua sotto la funzione crea nemico, che riceve la funzione da associare all'oggetto nemico che sta per creare. Ovviamente torneremo su questi particolari, a breve direi. Questo è uno dei modi con cui si può creare un oggetto, vuoto, parentesi aperta, vuoto, quindi subito chiusa, ed è possibile poi aggiungere property, indicandole con la classica annotazione punto, nemico punto classe, che non preesisteva, lo sto aggiungendo adesso. E qui già la script rivela tutta la sua dinamicità. Classe del nemico, sparando a caso ovviamente, la sua salute di partenza, e il comportamento, che non solo può essere un valore come una stringa o un numero, ma anche un riferimento a una funzione, quella che la crea nemico ha ricevuto come parametro e che è stata scelta prima in modo casuale. Costruito il nemico, lo restituisco e lo vado qui a memorizzare nella variabile primo nemico. E poi chiamo su quello il comportamento. Se volete, la regola che risponde alla domanda ma dove posso usare una funzione espressione? Risposta, ovunque è previsto che si possa mettere un'espressione. Bene, l'argomento che segue è comunque correlato, perché stiamo comunque parlando di aspetti collegati all'utilizzo delle funzioni. E quello che sto introducendo è particolarmente delicato e importante, va assolutamente capito, altrimenti ci troveremo con errori strani e apparentemente incomprensibili. Ora che i nostri script sono formati potenzialmente da parecchie funzioni e altro codice, è indispensabile riconoscere per ogni identificatore quale sia la sua visibilità, cioè la sezione del codice in cui è possibile fare riferimento a quell'identificatore senza conflitti con altri che potrebbero avere lo stesso nome, ma rappresentare cose completamente diverse. Provate a pensare, iniziate una parte del codice, usare una certa funzione, cambiate contesto, trovate lo stesso identificatore, ma che lì rappresenta una cosa completamente diversa, il pasticcio. Possiamo fare ordine? Sicuramente. E di nuovo ci vengono in aiuto le funzioni. Una nota che avrà senso più che altro per chi ha già una infarinatura di javascript, per gli altri l'appuntamento è solo il primandato. Attenzione a non confondere il concetto di visibilità di una variabile con quello di contesto. La visibilità è la parte dei codici in cui una certa variabile è disponibile. Il contesto invece è l'oggetto per il quale una certa funzione viene eseguita. Per le funzioni libere, cioè quelle a livello globale, come visibilità, c'è comunque un oggetto di riferimento per esse, che è Windows, il contenitore di tutto insomma. Con javascript e s6 abbiamo tre, prima non solo due, livelli di visibilità. Globale, locale e a livello di blocco. Quando una variabile o il nome di una funzione è introdotto a livello esterno, cioè al di fuori di qualunque funzione, la loro visibilità, con il meccanismo anche dell'hoisting visto l'altra volta, è globale, cioè spazia in tutto il codice. Occhio però, perché quello che ho appena affermato è vero al 100%, solo se, come dovremmo sempre fare, tutte le variabili di chi introdotte all'interno di una funzione lo sono mettendoci davanti la parolina var o let, come spiegherò tra poco. Queste le rende appunto locali, che è il secondo livello di visibilità. Diversamente, orrore dagli orrori, pur essendo utilizzate all'interno di una funzione, sarebbero della specie fate di me quello che volete in qualunque parte del programma, cioè apparterebbero né più né meno al livello di visibilità globale. Gold rule, regola d'oro. In generale la visibilità globale è da evitare, perché è fuoriera di confusioni, conflitti e quant'altro. L'obiettivo in qualunque linguaggio di programmazione è la modularità, cioè sezioni di codice che svolgono un compito ben preciso e indipendenti dagli altri moduli. Esemplifichiamo qualche guaio. Una variabile è dichiarata all'esterno di qualunque funzione, quindi ha visibilità globale, così come l'identificatore fbad, funzione bad cattiva, che lo è perché va impudentemente a utilizzare una variabile esterna in modo diretto, così. Assolutamente da evitare. Però purtroppo tecnicamente funziona. Adesso immaginate che questa funzione sia sepolta in mezzo a mille altre, magari offuscata da quella compressione che elimina tutti gli spazi, fa sembrare lo script un unico blocco di caratteri compatto, ma come potrebbe il povero utente di fbad sospettare che chiamando questa funzioncina del cavolo si ritroverà massacrato il valore di x, perché è questo quello che succede. La x vale 100 prima di invocare fbad, poi invochiamo fbad e puffete. Al ritorno la x a tradimento è stata modificata. E da cosa dovremmo capirlo? Sarebbe una tragedia. Io personalmente non mi fiderei a usare quasi neppure le mie funzioni, figuriamoci quelle degli altri. Vediamo l'esecuzione. Prima di invocare fbad valgo 100, x dopo fbad 2, aiuto. Quello che non va è manca var davanti a questa x. Non stiamo sfruttando il function scope, cioè il livello di visibilità di funzione, dichiarando, e questa volta abbiamo una fgood, una funzione buona, le variabili interna a una funzione con var. Questa x non è questa x. Noi potremo chiamare in tutta sicurezza fgood, sapendo che questa, se ben scritta, non andrà in nessun modo a massacrarmi il valore di x. Prima di invocare fgood vale 100, la x è anche dopo. La protezione è reciproca, cioè il contesto è una funzione, agisce come una capsula che rende invisibile i suoi meccanismi interni, i suoi segreti interni. Questa y è locale, tentare di utilizzarla a livello globale porterebbe a un errore di variabile inesistente, non definita.